Buongiorno a tutti, oggi parliamo con il professor Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale e valutazione scolastica presso l'Università di Roma 3. Senti Corsini, il 2023 che si è appena chiuso è stato un po' il tuo anno perché sei stato presente nella maggior parte dei dibattiti che si sono sviluppati sul tema della valutazione scolastica perché proprio al tema della valutazione tu hai dedicato un libro che ha avuto e che ha un grande successo che è appunto la valutazione educativa. Su questo tema si è sviluppato un ampio dibattito, non sempre va detto come dire lineare perché ci sono state anche molte accuse, molte prese di posizione nei tuoi confronti. Incominciamo da una questione, nel sottotitolo tu dici come liberarci dalla tirannia del voto, ecco ma perché tu parli di tirannia del voto che è una delle cose che i tuoi detrattori ti rimproverano più di tutte. Allora, sì, liberare insegnamento e apprendimento dalla tirannia del voto, sì perché ritengo che il voto eserciti una egemonia sui processi di insegnamento, di apprendimento e di valutazione che non dovrebbe esercitare. Quindi sia nel libro ma più in generale anche in altri interventi, ma per esempio anche lavorando assieme a docenti del coordinamento per la valutazione educativa, noi chiariamo subito che il problema non è il voto. Questa è una cosa che forse è stata un po' sottovalutata all'interno del dibattito, almeno stando a certe posizioni. Il problema non è il voto, il problema semmai è il fatto che il voto risucchia tutto, cioè tenda a spalmarsi su ogni attività dello studente, tenda a rappresentare una sorta di fine, di obiettivo, per lo studente, per cui abbiamo studenti che studiano per il voto e questo è un errore gravissimo. Il problema non è il voto, il problema è come noi gestiamo questo strumento come docenti, anche in università, abbiamo problemi molto simili tra l'altro, in modo tale da evitare che certe dinamiche che sono tossiche e che incidono molto negativamente sull'apprendimento, in primo luogo sulla qualità degli apprendimenti, ma anche sul vissuto di studentesse e studenti, queste dinamiche appunto vengano messe in atto. Senti, però il tema del rinforzo per sostenere gli apprendimenti è un tema vecchio nella psicologia, addirittura risale agli anni 50, addirittura dagli studi dei comportamentisti, quindi non è che il rinforzare, non è che il tentativo di rinforzare sia un tentativo sbagliato e allora come stanno le cose? No, ma allora il comportamentismo ha influenzato le prassi educative, a volte bene, a volte male, poi abbiamo avuto però anche altre correnti psicopedagogiche che hanno arricchito un po' lo sguardo del comportamentismo. Ma qui il problema è che usare la valutazione per orientare l'attività è la cosa migliore da fare, no? Cioè noi usiamo la valutazione per arricchire le esperienze, quindi diciamo qui hai fatto una scelta corretta, qui invece questa regola, questa procedura dovresti usarla diversamente oppure dovresti usare quest'altra accortezza e questo significa valutare, no? Quindi attribuire valore, attribuire valore allo scarto che noi riscontriamo tra le cose come sono e le cose come vorremmo che fossero in modo tale, in modo tale da ridurre questo scarto, questa distanza. Nel momento in cui invece subentra il voto, il problema è che noi stiamo volontariamente o meno classificando gli individui, perché se io dico 7, 5, 8 o anche intermedio, base o bello, buono, brutto, quasi bene, quello che volete voi, ABCD, io in realtà sto assegnando questo studente a un, diciamo, gli sto assegnando una posizione, no? Gli sto conferendo un rango all'interno di una graduatoria e allora sto sperando che fondamentalmente questa, che subentri in lui, in lui la voglia di apprendere in modo tale da non sfigurare all'interno di questa graduatoria. Ora questa scelta è, per quanto sia in linea con quella che Brunner avrebbe definito pedagogia popolare, cioè con tutti i luoghi comuni, il sentir comune, il senso comune pedagogico, in realtà è del tutto fallimentare, nel senso che se io applico questa scelta, quello che ottengo è che chi è già ben attrezzato continuerà ad apprendere e a non sfigurare e tendenzialmente invece chi non è attrezzato già sin dall'inizio otterrà dei voti bassi, delle posizioni basse e svilupperà fastidio, astio nei confronti dello sforzo d'apprendimento. Però chi è contro questa ipotesi dice no, momento, se ad uno studente gli diamo cinque, questo si sente stimolato a lavorare, studiare, impegnarsi per arrivare al sei, quindi perché, cosa c'è di male a dare cinque ad uno studente? Se funzionasse, ne potremmo parlare. Basterebbe prendere questi docenti e chiedere loro, ok, quindi tu hai preso, che ne so, in primo, in un primo, hai preso venticinque, quindicenni e devo immaginare che in quinto gli hai portati tutti e venticinque a un buon livello di apprendimento. Invece tendenzialmente no, no, ti dicono che due terzi, un terzo l'abbiamo fatto fuori nei primi due anni. E allora forse non funziona così bene questo metodo, no? Allora, se funzionasse, ne potremmo parlare. In realtà tendenzialmente non funziona, generalmente non funziona, più delle volte non funziona. E quando funziona dobbiamo anche stare un po' attenti perché dobbiamo capire se effettivamente loro sviluppano anche il desiderio di apprendere o se invece accettano le regole da caserma, ok, e quindi si adeguano a queste. E poi succede che, no, come lo studente che all'università studia soltanto per avere un 30 o un 18 o un 24, tendenzialmente tu lo riconosci perché il giorno dopo è quello che si è dimenticato. Che è il motivo per cui tu spesso dici, e lo hai scritto anche nel libro, che la valutazione è anche una pratica politica, è anche un problema politico. È così? È la valutazione, sì, diciamo che ogni atto educativo in fondo può essere definito tale, però in particolare la valutazione perché la valutazione è anche una forma di gestione del potere. E su questo aspetto bisogna essere chiari, chi valuta gestisce un potere. E allora noi non possiamo mistificare la realtà e dire che non esercitiamo un potere quando valutiamo, non è corretto. Noi esercitiamo un potere, però potere può significare anche sviluppare delle potenzialità, potere significa anche questo, ma potere può significare anche formulare delle gradatorie di sommersi e salvati, perché potere significa anche questo. Allora ci sono degli estremi, no? C'è il potere esercitato in maniera autocratica, in cui io non ho di fronte dei soggetti, ma ho di fronte degli oggetti che devo classificare, oppure c'è il potere gestito in funzione democratica, in cui sì, io valuto, però sono trasparente, esplicito i miei criteri, e magari anche studentesse e studenti valutano i propri apprendimenti, o gli apprendimenti o i prodotti delle loro colleghe e dei loro colleghi. Sono modi diversi di intendere la valutazione, che hanno dei risvolti completamente differenti sul piano degli apprendimenti, della qualità degli apprendimenti, perché nel secondo caso abbiamo tendenzialmente apprendimenti migliori, ma anche delle relazioni umane, perché nel secondo caso abbiamo una classe, no? Una classe che è meno gerarchizzata, meno competitiva, il clima di classe è migliore, non c'è quel clima tossico appunto, che appesta le relazioni tra esseri umani. Senti Cristiano, ma tutto quello che tu hai detto è molto interessante, io però ti faccio una domanda anche un po' provocatoria, permettimi. Ma ci sono delle evidenze scientifiche in quello che tu stai dicendo, o è una tua opinione? Perché è chiaro che se è una tua opinione, è un conto, ma se ci sono evidenze scientifiche, il discorso cambia radicalmente, che è molto spesso quello che i tuoi avversari affermano, sostengono, dicono, sì, sì, Corsini racconta, racconta, ma poi evidenze scientifiche non ce ne sono. Allora, queste evidenze scientifiche ci sono, esistono, tu hai fatto delle ricerche? Allora, esistono da decenni, cioè, esistono da decenni, noi sappiamo da decenni che la valutazione descrittiva ha un impatto migliore sugli apprendimenti rispetto a quella numerica. Black and William, le ricerche di Hattie, i lavori condotti anche, diciamo più o meno, più o meno dagli anni 70 in poi, sul feedback, sono centinaia di ricerche. Allora, qui l'evidenza è scientifica per due motivi, perché la scienza si compone, no, di due movimenti che sono il rapporto dialettico, perché si arricchiscono a vicenda, no? Cioè, la scienza ha sicuramente un impianto empirico e quindi è importante che ci siano tutte queste ricerche che poi, per esempio, una quindicina di anni fa, Hattie ha sintetizzato e poi ce ne sono state altre, eccetera, eccetera. E quindi è importante che ci siano delle evidenze empiriche. Però non dimentichiamo che l'evidenza in sé empirica, l'evidenza empirica, è legata anche a un piano logico-deduttivo. Cioè, sono due movimenti che si mettono assieme, altrimenti non c'è scienza, altrimenti c'è un affastellarsi di numeretti e dati che di scientifico non avrebbero nulla. E l'impianto logico-deduttivo è molto semplicemente questo. Lo banalizzo un po', no? Però, fondamentalmente, se io, se tu mi chiedi dove stai, se stai andando nella direzione giusta, io descrivo la tua traiettoria, ti indico un posto da raggiungere, ti do dei consigli su come raggiungere quel posto. Non ti rispondo dicendo acqua o fuoco come nel gioco. Perché il gioco, quel gioco dell'acqua e del fuoco, è bello perché diverte e diverte proprio perché il feedback che dà chi sa dove sta la cosa che viene cercata è povero. Perché altrimenti ti direi guarda, sta sotto lì, devi fare tre passi e lo trovi lì, no? Allora, l'impianto logico-deduttivo è molto semplice. La valutazione è una forma di relazione educativa e di relazione umana. E nelle forme umane di relazione, di rapporto, ci sono le relazioni e ci sono i rapporti. Cioè, relazione significa che io ti racconto delle cose, ti rendi, io faccio un resoconto delle cose. e quindi sì, ci sono delle evidenze empiriche, ma c'è molta pedagogia dietro, no? Quindi, è questo incrocio di evidenze empiriche sulla base di un piano teorico che era già stato sviluppato in precedenza, per cui la scuola-laboratorio di Chicago di John Dewey funziona bene, perché c'è John Dewey che ha certe idee sulla didattica, e così Montessori, e così poi altri, no? Frenè, e allora, ecco che questo tipo di valutazione altro non è che un tipo di didattica, ovvero un tipo di relazione tra esseri umani, finalizzato al prendimento, ovviamente, e che poi ha avuto anche, fortunatamente, ma non vedo come potesse essere altrimenti, però è andata bene comunque, il gran conforto dell'evidenza empirica. Certo. Senti Cristiano, chi ti accusa di vari misfatti e di varie nefandezze dice anche sì, ma Corsini è d'accordo con Confindustria e con quant'altri, perché anche lui, come loro, vuole la abolizione del valore legale del titolo di studio. Questa accusa che fondamento ha? Tu vuoi dire con chiarezza qual è la tua opinione sulla questione del valore legale del titolo di studio? Certo, no, no, ma io difendo il valore legale del titolo di studio. Non è affatto vero che mettere in discussione l'uso del voto in itinere o la tirannia del voto in itinere voglia dire mettere in discussione il valore legale del titolo di studio, anzi significa difenderlo perché fondare su un affastellamento di voti che notorialmente sono la forma meno, meno affidabile, meno valida di comunicazione della valutazione, il processo di documentazione per l'esito finale rende molto più debole tutto il processo e quindi anche l'esito. Invece ancorare a affidabili descrizioni dell'apprendimento il voto finale rende molto più valido, molto più affidabile, molto più difendibile quel titolo lì, quel titolo lì. Quindi in realtà lavorare per la valutazione educativa significa anche difendere il valore legale del titolo di studio. Senti, veniamo e così poi concludiamo, veniamo ad una questione però squisitamente pedagogica che certamente interessa anche molto agli insegnanti. Allora tu più di una volta hai detto sì però attenzione la valutazione l'atto del valutare è un atto che ha a che fare con la libertà di insegnamento e con la autonomia dell'insegnante. Nessuno neanche il ministro può dire agli insegnanti all'insegnante singolo come deve usare gli strumenti di valutazione o quali strumenti di valutazione deve usare l'insegnante deve essere lasciato totalmente libero su questo ecco che cosa vuoi dire con precisione cioè vuol dire che allora l'insegnante può dare i voti se gli piace o non gli piace può usare gli strumenti che vuole probabilmente non è così ecco spiegacelo bene allora diciamo che noi sappiamo che il voto è obbligatorio nella valutazione periodica finale punto poi effettivamente ci sono delle scuole che si danno delle regole dicono almeno due volte a quadrimestre oppure fate come volete oppure eccetera eccetera ok e lì è un po' una forzatura però se ci sono dei docenti che sono d'accordo su questo amen e via quel che non può essere fatto è impedire a un insegnante di formulare un voto di assegnare un voto questo non può essere fatto per un'attività per una data attività e al tempo stesso chiaramente l'insegnante non può essere obbligato a mettere un voto a un'attività specifica e perché perché la valutazione in itinere è una strategia didattica quindi costringere un insegnante a mettere un voto significa è come costringerlo a usare il debate o la lezione frontale o qualsiasi altro tipo di strategia ok è proprio un errore gravissimo se intendiamo la valutazione come mezzo di insegnamento e di apprendimento quindi questo ecco dopodiché è giusto che le scuole si diano delle linee guida su questo e che quindi organizzino in maniera coerente tutto questo però la valutazione in itinere è in primis una forma di didattica è una forma di insegnamento apprendimento e quindi se siamo troppo restrittivi su questo se siamo prescrittivi o proscrittivi facciamo un errore molto grave facciamo un errore molto grave perché diamo l'impressione di una unitarietà culturale che in realtà non c'è perché poi chiusa la porta dell'aula giustamente il docente prova a fare le cose che gli vengono meglio e credo che questo anche se molti dirigenti miei amici non concordano su questo ok ma lo capisco però noi dobbiamo difendere questo aspetto qui noi dobbiamo difendere questo aspetto qui perché è fondamentale che l'insegnante faccia ciò che ritiene più utile per le studentesse e per gli studenti che non agisca obbedendo a regole ma che agisca secondo la propria preparazione e facendo in modo tale che sia il più efficace possibile ecco questo credo che sia fondamentale bene ti ringraziamo anche di quest'ultimo approfondimento grazie per la bella chiacchierata che abbiamo fatto il 2023 è stato un anno importante per te per le tue ricerche per i tuoi studi ti auguriamo che il 2024 lo sia ancora di più anzi hai in programma qualcosa di interessante di nuovo per il 2024 sì ci si uscirà un altro libro però ne parleremo nel 2024 certo ne parleremo nei prossimi mesi grazie molti auguri per ogni per ogni cosa grazie a presto a presto a presto Grazie a tutti.